Grazie. Dunque, come potete notare, nel titolo non ho avuto il dono della sintesi. Di cosa parleremo esattamente in questo talk? Principalmente di come far parlare WordPress in modo che trasmetta a Google Analytics dei dati per capire alcune cose. Due brevissime parole su di me. Ho già presentato, io mi occupo soprattutto di fare consulenza per PMI e professionisti per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi di business. Incidentalmente, questo cozza spesso con l'utilizzo di WordPress. E lo faccio da circa una quindicina d'anni. Sono inoltre organizzatore del WordPress Meetup Brescia e ambassador per SiteGround Italia. Ma veniamo subito al noccio della questione. Come sappiamo tutti, soprattutto chi è un sito, creare contenuti costa fatica. Creare contenuti, sia video, sia testuali e quant'altro, costa fatica. E senza contenuti spesso non si va da nessuna parte. Perché andiamo da consulente, seo ci dice, crea contenuti. Vogliamo fare social? Ci dicono, crea contenuti. Qualunque cosa dobbiamo fare? Ci dicono, crea contenuti per il sito, che siano utili di valore e quant'altro. Molto spesso, però, capita in realtà, e vi lo vedo costantemente, tutto il tempo dedicato a produrre contenuti viene investito in questa attività e pochissimo a misurare i risultati. O soprattutto, quei contenuti che creo servono a qualcosa? Anziché, ad esempio, dedicare e produrre senza soste, senza mai misurare post, infografiche. Poi sento che si possono fare i podcast, faccio anche quelli. Mi dicono, hai fatto l'infografica? Faccio l'infografica. Qualcuno dice, adesso devi metterci la faccia, quindi fai il video. Produco un sacco di contenuti nell'euforia e poi non misuro niente. E questo, tante volte, è peggiorato dal fatto di fare anche attività di advertising. Quindi, inizio a fare campagne o bene o male, o tranquillamente, a caso, su Facebook, Google Ads, così perché mi dicono, devi portare traffico. Come è andata la campagna? Non lo so. Cambiato qualcosa? Forse. Però la rifacciamo. E tutto questo senza misurare. Bisognerebbe, invece, iniziare a chiedersi alcune cose, alcune domande. Ad esempio, quali sono i contenuti del mio sito che generano più valore? Tutti i video che ho pubblicato fino adesso, qualcuno li ha visti sul mio sito? E soprattutto, quelli che li hanno visti, hanno fatto anche altro? O hanno semplicemente visto un video? Io, del resto, se faccio un'attività su un avvocato, un architetto, un'azienda, faccio e-commerce, non produco video perché la gente li vede e basta. Non sono una media company. Potrei magari diventarlo se sono talmente bravo a fare video. Ma generalmente li produco contenuti con altri scopi. Altro tema a livello SEO. Dicono sempre produrre articoli lunghi, mille parole, no troppo poco, vai mille e cinque, mille e cinque dilettante, meno duemila. Chi si spinge ha anche l'articolo degno di questo nome a almeno cinquemila parole. Ma ho mai misurato se i contenuti lunghi sono effettivamente quelli che producono più risultati sul mio sito oppure no? Non lo so. E le call to action? Quando sento persone che dicono, mi hanno detto di mettere quella call to action a metà pagina perché lì funziona. Dico, io non ho mai avuto la verità in tasca, altre persone magari ce l'hanno, tendo sempre però a dire misuriamo e vediamo se quello è vero. E molto spesso in landing page, in siti e quant'altro si mettono pulsanti, banner, call to action nella speranza che funzionino, ma poi alla fine non si sa sul sito qual è la singola cosa che realmente ha funzionato. Magari è funzionato tutto, magari niente, ma non sappiamo i dettagli. In questo spice vedremo allora alcuni metodi, alcuni strumenti per misurare e anche, soprattutto, come imparare a leggere i dati. Per farlo partiamo dal classico onnipresente concetto di funnel. Non vi tedierò troppo su questo argomento, ma concettualmente cosa significa? Significa iniziare a analizzare e stabilire alcune fasi e in base alle fasi che vogliamo misurare, decidere cosa misurare. Ad esempio, Analytics, chiunque lo utilizzi, anche solo una volta, di default, vi dice già da dove arrivano le persone, le sorgenti dalle quali arriva traffico sul sito. Quali sono le pagine più viste? Già ve lo dice. Però di default non vi dice quanti download avete generato. Tipo se sul vostro sito fate scaricare dei PDF. Quanti ne hanno scaricati? Analytics, di default, non ve lo dice. Se qualcuno non gli dice di farlo. Quanta gente si è iscritta alla newsletter? Boh. Da dove arrivano quelli che si iscrivono? Boh. E così via anche altre domande più approfondite, chiaramente quando andiamo sulla parte e-commerce o sulla parte, ad esempio, della fidelizzazione. Lì si tratta di capire, l'utente è registrato? È tornato sul sito? Quanti acquisti ha fatto in un anno, magari in dieci visite? Ci sono tante domande che molto spesso le aziende non si fanno. Semplicemente mandano avanti il sito o per mancanza di risorse o di tempo o semplicemente perché nessuno gli ha detto che certe cose si possono fare, non vengono misurate. Il concetto quindi è quello di andare oltre le semplici visualizzazioni di pagina. Sapere che il mio sito è visitato da 10.000, 50.000, 100.000 persone al mese, che le pagine viste sono state 200.000 o 2 milioni, mi può interessare se sono un giornale online, un magazine che al limite vive di pubblicità e di page view. Ma per un'azienda normale, chi se ne frega se mi hanno visto 100.000 volte o 10.000? Conta il fatturato generato. Non vivo di pagine viste e basta. E qua apro una piccola parentesi. Ne aprirò alcune perché è un po' il vizio di aprire parentesi, però adesso prometto di contenermi un attimo. Una prima misura, adesso qua non si vede magari benissimo, si tratta di ad esempio monitorare la ricerca sul sito. È un esercizio, un qualcosa di così banale, che richiede pochi secondi, ma che molti non fanno. Se usate WordPress e usate Analytics, vi basta andare nella proprietà, nella gestione della vista, attivare il monitoraggio sul sito e inserire S come parametro di ricerca. E questa semplice operazione vi permette di sapere quanto spesso le persone usano la ricerca sul sito, sul vostro sito, e anche quali parole cercano. Questo è un primo passaggio che mi consente di sapere, se non altro, se le persone cercano cose che magari sul sito non trovano. e mi può dare un'idea per creare contenuti. Entriamo però più nel vivo e nel nocciolo della questione. Siamo abituati quando guardiamo un report su Analytics, ad esempio a livello di contenuti o di altro, di fermarci a vedere quante pagine sono state viste per i vari URL, quante visualizzazioni uniche, al limite quanti accessi, volendo la frequenza di rimbalzo o quant'altro. Però ci sono altri valori che spesso sono nascosti se noi non li attiviamo appositamente. Ad esempio, l'ultima colonna, quella relativa al valore della pagina. Il valore della pagina cos'è? Tecnicamente per Analytics è la somma dei valori, dei singoli obiettivi o delle transazioni economiche diviso le visualizzazioni di pagina uniche. Tradotto in altri termini, mi dice, se io tengo monitorati dei valori, ossia delle azioni che per me sul sito corrispondono a un valore, ogni pagina del sito che viene vista, quanto contribuisce a generare questo valore? Ossia, ci sono magari pagine dalle quali i visitatori transitano continuamente, ma che non producono mai alcun risultato. Altrimenti, ci sono pagine che magari sono trafficate poco, ma ogni volta che qualcuno ci passa, compie un'azione che per me rappresenta poi un valore. Quindi, questo conteggio mi permette di sapere se una fantomatica pagina X vale più di una pagina Y, oppure anche, più che oppure anche, a livello di pagina di destinazione, quale genera il maggior valore per visita. Se io ho più landing page sul mio sito, da dove entrano le persone che poi generano il valore sul mio sito? Faccio una campagna, magari lì arrivano un sacco di persone, magari un articolo ben posizionato su Google e mi porta un sacco di traffico. Peccato che tutto quel traffico non produce nulla, a parte traffico su quella pagina e stop. E qua poi nasce la prima domanda. Ok, tutto bello, ma come faccio a dire ad Analytics questo è un valore e questo non è un valore? Come gli dico, cosa misurare per me e per la mia attività? È relativamente semplice, perché è una funzione già incorporata in Analytics e è nella sezione dedicata agli obiettivi della singola vista. Tramite questa funzione io posso definire delle pagine di destinazione, degli eventi o delle metriche o rapporti di metriche particolari. Ad esempio, la durata della visita può essere un obiettivo per me? Potrebbe. Il numero di pagine per sessione? Sì. Il fatto che raggiunga una certa pagina? Questo è molto più probabile. Ad esempio, compilo la newsletter, inserisco i dati, vengo renderizzato su una thank you page, monitoro quante volte le persone raggiungono quella thank you page. Faccio un acquisto, vedo dopo l'acquisto, vengo inoltrato alla pagina con grazie per aver acquistato, eccetera, eccetera, monitoro quella thank you page. Oppure, come vedremo anche nel corso delle prossime slide, possiamo misurare gli eventi. quando qualcosa di particolare che io voglio misurare succede sul sito. Un qualcuno guarda il video, guarda il video per un minuto o lo guarda tutto. Quando visualizza un form oppure non lo visualizza, magari lo chiude. Ci sono tante altre cose che posso misurare e corrispondo agli eventi. Se io tutte queste cose le lascio qua e dico non mi servono, le chiudo, non voglio sapere nulla, avrò un sito che mi richiederà sempre del lavoro, ma io non saprò mai se quel lavoro che ho fatto migliora o peggiora i risultati o nemmeno se li produce. Continuo a produrre contenuti, continuo a fare cose, ma senza sapere cosa succede realmente sotto. Questo è un esempio di obiettivo. Definisco una pagina di arrivo e gli do un valore. Si iscrive alla newsletter, gli do un valore 5 euro. Oppure, creo un evento, gli dico quando la categoria dell'evento è video e l'azione è questa che ho stabilito io, ossia ha terminato di vedere un video sul mio sito, gli do il valore di un euro e misuro anche quello. Oppure, ancora più facile, se ho un e-commerce tengo traccia delle reali transazioni. Qua non ho molto grado di aleatorietà, cioè se uno acquista un prodotto di 10 euro il valore è 10 euro, se lo compra di 100 è di 100 euro e così via. Però, in questo caso, una misurazione è precisa. E qua nasce un'altra domanda. mi hai fatto vedere 5 euro per la newsletter, un euro per il video, ma come cavolo hai fatto a stabilire questi valori? Non ci sono regole fisse, tranne che nel caso dell'e-commerce. Le regole quali sono? In base al tipo di azione, al tipo di interazione che ho sul sito, ci sono valori da usare. Ad esempio, se tengo monitorato la durata media della visita o quante pagine ha visto per la sessione, il valore è sostanzialmente zero. Cioè, io non posso dare un valore di uno che sta 5 minuti sul sito, così per il gusto di starci vale un euro o 50 centesimi o due euro. Per me non vale nulla. Mi serve quell'obiettivo per misurare, ma non ho un valore economico. Viceversa, se comincio a dire uno che mi vede tutto un intero video per 10 minuti e magari un video di presentazione o più commerciale o quant'altro lo vede tutto, posso iniziare a stimare magari un euro di valore ipotetico in modo che riesco a dare un valore a quell'azione. Per me vale molto di più. La newsletter, anche quella in base al tipo di newsletter e quant'altro, può avere un valore. Se poi misuro esattamente quante vendite mi fa la newsletter, è ancora meglio. Però gli do un valore superiore, 2 euro, 5 euro e quant'altro. Lead generation, valore attese del lead. Questo potrebbe essere un po' più facile. Supponiamo che io sia un avvocato e mediamente ricevo potenziali clienti solo attraverso il sito. Nessuno mi conosce, però tramite il sito ricevo ogni giorno delle richieste di preventivo. Mediamente su 10 richieste di preventivo, una a buon fine e mi genera una vendita, un cliente per 1000 euro. 10 richieste, 1000 euro. Il valore atteso per lead, 100. Quindi attribuisco tipo a 100 euro il valore di ogni possibile lead. Non fissatevi sul fatto che dite sì ok ma immetti 100 euro ma in realtà non li incassi qua. Stiamo parlando di valori di marketing, non valori effettivamente economici. E infatti qua nasce un dubbio. Ma non è che mettendo i valori un po' a caso su questi obiettivi e tracciando l'e-commerce io creo un casino. Ossia certe visite mi generano nel newsletter 5 euro un po' di video alcuni euro più chiedono il preventivo altri 10 o 20 euro 100 euro però mi comprano anche delle cose 200 euro. Alla fine io magari ho 350 euro ma in realtà il fatturato vero sono 200 gli altri che roba sono? Analytics ci viene in soccorso anche di questo. Basta creare due viste una in cui traccio i valori e-commerce e una solo gli obiettivi di marketing. Io posso creare tantissime viste su Analytics molte persone si fermano a una e a volte non guardano neanche quella. Io posso fare una vista dove traccio solo gli obiettivi di marketing in cui tengo d'occhio newsletter, video queste cose varie e una dove traccio invece solo i valori dell'e-commerce così in una i valori sono effettivamente quelli delle transazioni nell'altra quelli di marketing. Altro dubbio soprattutto per i siti più complessi è chiaro che se io ho un sito di 10 pagine in tutto posso monitorare tranquillamente tutte queste 10 pagine volendo non mi servirebbe quasi neanche Analytics potrei mettere una persona che chiede alle persone cosa hai visto e farei quasi prima. Se io invece ho un sito con centinaia o migliaia di pagine analizzare tutto pagina per pagina diventa complicato. Supponiamo un e-commerce che ha la parte più istituzionale la parte e-commerce ha il blog ha la knowledge base o magari ha anche un'area di supporto. Se io comincio a vedere l'elenco ci sono 20 pagine che appartengono a 5 aree diverse e questa lista va avanti per 5.000-4.000 pagine spulciarne una a una per sapere quale vale di più diventa un incubo e quindi è necessario raggruppare questi contenuti. Analytics consente di fare anche questo posso creare delle regole che mi raggruppano i contenuti ad esempio una cosa banale se io ho tutti gli articoli del blog sotto mio sito slash blog faccio una regola e dico Analytics tutto quello che c'è dopo blog consideralo nel raggruppamento blog tutto quello che c'è sotto shop come shop online eccetera eccetera oppure tutto quello che è in IT fallo per l'Italia quello che è in FR per la Francia quello in EN per la parte di lingua inglese eccetera eccetera posso creare tutti i raggruppamenti di questo tipo e questo mi permette di raggruppare vedere tutte le cose che vedo normalmente a livello di pagina vederle per gruppi di contenuti così posso analizzare il mio sito per sezioni in maniera molto più facile se qualcuno mi dice ma il blog rende qualcosa non sono obbligato a vedere articolo per articolo per articolo se è una resa ma dico tutto il blog questo mese ha reso tot noi abbiamo scritto magari pagato 20 copy 10 copy o un copy o nessun copy magari l'abbiamo fatto internamente hanno prodotto 5 articoli a settimana quanto traffico è arrivato questo mese dal blog lo posso sapere quante entrate quante conversioni quante iscrizioni a newsletter lo posso sapere senza guardare singolo articolo per singolo articolo e vedendo queste cose scatta spontaneamente un'irrefrennabile voglia di voglio di più cosa altro posso misurare cosa altro posso fare perché adesso dici mi hai spiegato mi hai fatto vedere questo questo e quest'altro ma cos'altro si può fare ancora avete mai sentito parlare delle dimensioni personalizzate su google analytics ok sono qua apposta sono una parte che praticamente di analytics consente di aggiungere dei valori aggiungere dei termini delle cose misurabili all'interno di google analytics ad esempio non vi spiego quel codice riga per riga e neanche questo concettualmente immaginate voi che avete un blog e vi chiedete o un sito si è un blog in questo caso vi chiedete ma posso misurare la lunghezza degli articoli in modo da vederla su analytics analytics da solo non lo fa se però il mio sito crea conta per me le parole e passa una dimensione personalizzata ad analytics io ho questa misurazione volendo queste dimensioni personalizzate possono essere create anche per scopi particolarmente bizzarri tipo potrei anche tramite un servizio registrare le condizioni meteo del momento in cui l'utente ha fatto la visita per vedere se un mio sito viene più trafficato quando piove o quando c'è il sole e la misuro anche quella come dimensione personalizzata posso misurare la categoria dell'articolo se è un articolo aggiornato oppure no magari un articolo che ha nello slag dell'url un 2005 slash o qualcosa ma in realtà lo aggiorno ogni mese ed è un articolo sempre aggiornato quindi mi interessa sapere se è anche un articolo aggiornato quanti commenti ha eccetera eccetera posso misurare tutto quello che voglio e trovarmelo poi in analytics questo in pratica io nella prima colonna se voglio posso far vedere la lunghezza degli articoli io in questo caso vedo che su questo sito la maggior parte delle visualizzazioni degli accessi sono stati generati da articoli che hanno una lunghezza tra le 1400 e 1600 parole quindi io qua non ho l'url di pagina in questo momento non me ne frega niente sto usando un'altra dimensione sto scavando all'interno dei dati guardando altre cose che analytics da solo non mi farebbe vedere posso vedere anche gruppi di contenuti e vederli anche per altre informazioni qua adesso qua non lo vedo perfettamente però è la categoria l'ho oscurata ma è la categoria cioè voglio vedere nel mio blog quale categoria degli articoli genera di più senza vederlo articolo per articolo io l'ho vista tranquillamente per categoria ma non solo ho l'anno di aggiornamento gli articoli aggiornati rendono più o no rispetto a quelli passati in questo caso la prova è sì perché tutti gli articoli che sono quelli più visti su questo sito sono tutti aggiornati a quest'anno quindi aggiornare gli articoli in questo caso ne vale la pena in altri casi potrei dire ho aggiornato un sacco di articoli ma i più visitati sono ancora quelli di dieci anni fa e sotto posso avere anche il numero dei commenti poi qua a volte la fantasia fa anche brutti scherzi si misurano cose che non servono a nulla però per il gusto di farlo lo si fa alcune soluzioni per wordpress la prima soluzione è usare un plugin ad esempio questo è un famosissimo google analytics for wordpress by monster insights che quando voi cercate sui repository di wordpress cercate analytics è il primo che trovate è il più diffuso in assoluto è disponibile sia nella versione free sia a pagamento ma già la versione free fa tante cose ad esempio di default vi traccia il download di certi file se avete file pdf word excel e quant'altro ve li misura e ve li trovate in analytics senza fare nulla se acquistate la versione premium avete già anche il monitoraggio e commerce questo plugin quando è utile quando voi dite io non so scrivere neanche ciao mondo in php non so neanche cosa c'è sotto il cofono di wordpress però voglio misurare tante cose qua pagate determinati prezzi però avete tutte queste soluzioni già pronte senza muovere un dito è tutto configurabile direttamente dalla bacheca di wordpress altrimenti altro plugin anche questo sia gratuito sia pagamento pixel your site questo è più orientato a tracciare praticamente quasi tutto quello che succede sul sito video clic su vari elementi pixel di facebook pixel di pinterest pixel di qualunque cosa vogliate lo potete tracciare anche qua la parte gratuita fa delle cose ma le caratteristiche più interessanti sono nella parte a pagamento abilitando uno di questi due avete già pronto all'uso il tracciamento e-commerce quello avanzato di analytics quello che ad esempio vi permette di avere grafici di questo tipo che vi mostrano queste sono le mie sessioni queste sono le sessioni che hanno visto dei prodotti questa è quella che hanno aggiunto il carrello queste che hanno iniziato la procedura di acquisto e queste quelle che hanno acquistato quindi posso vedere anche quali sono i prodotti più visti le categorie più viste quanti hanno cliccato sulla categoria il prodotto nella categoria quanti hanno visto il singolo prodotto e tutto il resto e questo col plugin ce l'avete senza muovere un singolo dito ma arrampicandosi e faticando un po' potete vedere i posti i panorami più belli e quindi a cosa si arriva? si arriva Google Tag Manager che è una soluzione avanzata ma non così avanzata nel senso complicato come uno potrebbe pensare perché tanti non lo usano perché pensano già non apro analytics figuriamoci se uso Tag Manager e molti soprattutto erroneamente vedono Tag Manager come un'alternativa analytics tipo non uso analytics uso Tag Manager no Tag Manager è un qualcosa che consente di utilizzare anche analytics ma Tag Manager per di suo non misura un bel fico secco quindi è uno strumento in più anche qua posso usare questo plugin il più famoso è questo è GTM for WordPress si trova questo URL oppure inserire il codice a mano tramite un plugin o nel function del tema come volete però si può fare anche a mano usando un plugin ho il vantaggio che ho già tante cose fatte dal plugin e qua la domanda nasce sì ok ma mi hai detto fino adesso di analytics adesso mi tiro in ballo Tag Manager a cosa serve Tag Manager perché dovrei installarlo perché mi permette di gestire tutti i tag di tracciamento e far veramente tutto quello che la fantasia mi suggerisce di fare ad esempio avete presente sicuramente sì perché lo vedete tutti i giorni il banner dei cookie io se lo installo sul sito senza Tag Manager devo fare tutte le regole per dire quando uno non l'ha ancora cliccato non installare questo questo e quest'altro e devo far parlare tante cose con quel bannerino così se io questa cosa la gestisco tramite Tag Manager posso dire io ti carico 20.000 cose voi siete tutte ferme finché uno non ha dato il consenso state lì appena uno dà il consenso Tag Manager le libera tutte sulla pagina e una volta che lo so fare e che l'ho implementato implementarmi singola cosa è una cavolata non devo inventarmi chissà cosa ho già il sistema che libera o trattiene tutte queste risorse alcuni esempi tracciare i click sui link che ti interessa monitorare farlo senza Tag Manager non è semplicissimo e richiede spesso di mettere mano al singolo codice di quella singola pagina di quella singola voce eccetera eccetera con Tag Manager faccio una regola e può essere di qualunque tipo ad esempio posso dire tieni monitorati tutti gli link che sono nella sidebar di Wordpress una regola e lo fa in Analytics mi trovo tutti i tracciamenti su quali link vengono cliccati di più posso anche monitorare ma se qualcuno copia il testo del mio sito lo considero come un qualcosa di interessante sì con Tag Manager c'è una regola che posso sapere in questa pagina qualcuno ha copiato questo testo ci vado sopra col mouse anche cosa ha copiato questo mi permette di sapere comunque che c'è stata interazione se qualcuno l'ha copiato vuol dire che non era proprio da buttare forse qualcuno interessa e gli do comunque non un valore ma comunque lo tengo d'occhio sul mio sito questi ad esempio nell'ultima settimana sono gli ultimi i plugin o meglio i link ai plugin presenti lo sito di Wordpress più cliccati quindi gente che è andata sul mio sito quali plugin cliccano di più questi sono andati a vederli poi sul sito e questa cosa la posso fare con tutti i link presenti in questo caso sul mio sito quali video quali pagine contengono i video visti alla fine voi potete monitorare anche i video sul vostro sito quanti vengono avviati quanti vengono visti fino a metà quanti vengono visti integralmente e uno potrebbe dire sì ok vabbè questo è interessante ma alla fine che me frega metto il video se uno lo vede o non lo vede cosa cambia e qua vi do un input ulteriore potete ad esempio per chi fa campagna Facebook mette il pixel di Facebook e quant'altro così costruire pubblici personalizzati in base alla gente che ha visto il video solo l'ha avviato quelli che l'ha visto metà quelli che l'ha visto al 100% personalmente io clicco anche quelli che cliccano sui link di affiliazione lo faccio diventare pubblico personalizzato si può fare un po' di tutto e monitorare anche quelli che scrollano la pagina fino al 90% anche quello pubblico personalizzato se io non facessi questo faccio un pubblico personalizzato di persone che visitano il sito e basta senza misurare altre interazioni il concetto qual è? è quello di misurare misurare per ottimizzare ottimizzare anche per segmentare il pubblico e poi fare una comunicazione in modo mirata è diverso se io posso parlare alle persone in un modo perché so che sono persone che hanno visto certi video integralmente rispetto a comunicare che non sono anche quello che hanno visto se io ho un sito che parla di cani, gatti, rettili e pesci non posso mandare una comunicazione del tipo è tu che ami gli animali sempre a tutti è molto meglio se io sapessi mandare quel messaggio a tu che amante dei cani magari anche della razza tu che ami gli anfibi tu che ami i rettili e quant'altro questo è un esempio stupidissimo però il concetto è quello se io non conosco niente del mio sito dovrò fare sempre comunicazioni generiche conchiudendo una frase che nel settore mi piace sempre moltissimo è questa per sdramatizzare un po' non tutte le cose importanti si possono misurare e non tutto quello che posso misurare è realmente importante e detto questo grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti